no e adesso sta attento ha incominciato a imparare anche lui e lì anche a me non devi più farla lì la devi fare ecco dov'è dietro purtroppo devi chiudere l'ampelino prima perché sennò non riesce e qua uguale allunga la via 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 non ci viva non sono a perdere palla palla non ci faccio guarda dove sono caduto dove sono caduto guarda che ne stai pentando un'altra oh tu li metti con la caccia guarda che non fanno a 10 km che si capisce un caccia ma anche Roberto non è sceso da lì eh chi è? Roberto è sceso più là eh chi è? si ma lui è sceso il piede destro ma lui non è sceso dentro lui gli è andato giù la ruota e basta e lui è sceso di qua ma non mi piacciono a me quelli grandi no no non riesco lui dove va a chiuderla qua? io ho paura qui dove c'è il tuo piede lei non ci devi andare dai Stefano qua non ci devi andare guarda dove ti dico io io quelli non riesco a farli no ci penso neanche facciamo quella nuova va che è meglio se no non parla un chilometro eh ho capito sono entrato hai visto un parcheggio? eh no adesso me la sono già dimenticata cazzo esatto guarda non le fanno la prova è tutto un rischio non riesco a farli io quelli pianta la lente io questi non sono capace non li ho mai fatti tronco di qua di qua si va su quindi tronco ok vieni di qua ok bella questa qua giri questo aspetta giri dove? vai in mezzo dove cacchio vuoi questo cosa può fare? questa è per lo zacco eh? per lui per tutti questo prendiamo di qua di qua tutto contro pendenza figaro cazzo devi arrivare a lungo qua di qua uno due e tre ti butti nel burrone basta di qua la S scende giù ancora questa acqua quella qua questa è scherzata è uscita quello lì non ce la fai vale tutto guidato eh? cos'è che devi fare dopo di qua la faccia e adesso fumo dove studiate? dai zombie che oggi sei in vena dai oggi siete in vena guarda ci sono solamente due tronchi eh figaro due tronchi alti così cazzo quello qua in salita eh eh ho capito sei culo a camion figaro è in salita ho capito se sbaglio in disera ti uccidi grazie 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 grazie